Sono ritornato a fare i video ed è successo questo. All'ultimo salto, la Juve trova il vantaggio. Finalmente, finalmente ragazzi, finalmente. Dopo cinque partite, cinque partite, abbiamo fatto un mese che non vincevamo. Dal 27 gennaio 2024 che non si vince una gara. Sì ragazzi, sì, sì, da quel maledetto 1-1 con l'Empoli. Ora mettiamo noi, mettiamo noi il cortomuso, vinciamo col Frosinone al Cardiopalma, vinciamo al Cardiopalma 3-2, vinciamo con Rugani. Rugani, Monterisi, Monterisi, non ti sento, Monterisi, non ti sento, Monterisi non ti sento. E andiamo! Quanto posso godere? Una partita meritata che abbiamo vinto con la rimonta contro rimonta. Si vince la Juve in questi casi e non muore mai. Non muore letteralmente mai. Cari interisti, lo scurretto è vostro. Però la Juve, ricordatevi questa frase che non muore letteralmente mai. Perché un gol fatto al 96esimo è stato sudato. E infatti il Telecronaca ha detto, dopo questa partita i giocatori della Juve se ne andranno con la maglia sudata. Sudata, perché questa è stata una partita sudata dal primo minuto. È stata una partita sudata dal primo minuto. Oltre che siamo andati in vantaggio subito con Vlaovic abbiamo fatto benissimo. Poi abbiamo subito due gol in dieci minuti. Bruttissimi. Da Bresciamini e Chedira. Gol che non potevamo prendere mai nella vita. Ma giustamente se non prendiamo meno due gol in una partita siamo contenti. Appuntamento domenica col Napoli. Appuntamento al Maradona. Appuntamento. Partiano dei pre-dreci dall'1-1 all'Unipol contro il Cagliari. Allora facciamo quest'analisi di questa partita perché c'è molto da discutere. Soprattutto nella prestazione di Chiesa che non mi è piatuta. E poi Rugani ragazzi. Rugani è decisivo. Li do dieci solo per il gol. Per il gol fondamentale che ha dato a questa Juve. Con Allegri che stava, come avete sentito, con Allegri che se ne stava andando negli spogliatoi. Poi ci ripensa e torna lì. Torna sul posto. Torna a vedere la Juve vincere. Torna a vedere la Juve vincere dopo un mese. Che non vince. Sperando che continua a vincere anche il gol Napoli. Sperando. Incorgiamo le dita. Non credo che vinciamo. Ma almeno un pareggio mi va bene. Ecco sì e ci portiamo a 58 punti. A più, mi pare, 4 sul Milan. E a meno 8 dall'Inter che giocherà mercoledì. Giocherà domani la partita di recupero contro l'Atalanta. Purtroppo pareggiano le partite. Purtroppo ragazzi. È così. Però dobbiamo vincere. Ragazzi dai. Vi voglio carichi col Napoli. Volevo solo fare questo video per farvi vedere la mia felicità. Contro il Frosinone. Partita bellissima. Partita pazza. Ragazzi. Tieni qua. Signorino Monterisi. Questa è per te. Sì, sì, sì. Questa è per te. Questa è per te.